L'amata SOP di Canale 5 Terra Mara cambia orario, oggi lunedì 5 settembre, scopriamo a che ora inizia la nuova programmazione di Canale 5 L'amata SOP di Canale 5 Terra Mara cambia orario, oggi lunedì 5 settembre, scopriamo a che ora inizia la nuova programmazione di Canale 5 Leggi anche, Pomeriggio 5 con Barbara D'Orso Oggi, quando inizia? Nuovo orario Terra Mara oggi 5 settembre, c'è la puntata? La puntata di Terra Mara di oggi, 5 settembre 2022, andrà in onda La SOP non è finita e continuerà a tenere compagnia i telespettatori di Canale 5 Terra Mara, a che ora inizia oggi? L'orario della puntata di oggi di Terra Mara, però, verrà posticipato alle 16.30 e non al solito orario, 14.45 Un altro domani è Terra Mara, 9 orari le SOP opera Terra Mara e un altro domani, quindi si invertiranno per potenziare il ritorno di Pomeriggio 5 A partire dal 5 settembre, infatti, anche un altro domani si sposta alle 14.45 Lunedì 5 settembre Oggi in TV, cosa va in onda su Canale 5? Al posto di Terra Mara, oggi lunedì 5 settembre, andranno in onda le puntate della SOP un altro domani Di seguito la programmazione di Canale 5 prevista per oggi, 14 e 10, Una Vita, 1409, i parto, 1 F14 e 45, un altro domani, 1 F15 e 44, l'isola dei famosi 16 e 30, Terra Mara Restate aggiornati con per scoprire in anteprima tutte le news sulla puntata di oggi Il Paradiso delle Signore e la programmazione di Rai 1 E infine, grazie per aver guardato il video Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video